Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una lingua oscura che la parola mia sarà smarrita. Mai gli steady make up parties li mangerebbe tutti i cerbero e i golosi tra un delivery take it where you can eat li voglio tutti dentro al quarto cerchio chi pensa solo al business ed il cash tocchi dei gossip fa belli parecchio imita il suo best seller se ti riesci si dice che Beatrice non sia più l'ispiratrice ma è solo una fake news per fare like ed aumentare l'odio. Rivolgo al fine settimana non si dice weekend io dormo in albergo faccio te nell'hotel lavori da casa ma quale smart working io rompo i calzini mentre tempo allo shopping non voglio più colma a coltivazioni con questi call center mi gira i gironi perdonaci Dante se il tuo bel paese si crede più trendy quando parla l'inglese. Nel mezzo del cammin della giornata fanno tutti il brunch ma è solo una mangiata sette secoli di grande evoluzione per poterti amare mi dico una riunione. In questa odierna volgia di parole abbiamo smarrito la poesia e la riflessione l'amor che muove il sole e le altre stelle si perderebbe nelle chat di whatsapp voglio il tuo like per aumentare l'audience e le più. Rivolgo al fine settimana non si dice weekend io dormo in albergo faccio te nell'hotel lavori da casa ma quale smart working io rompo i calzini mentre tempo allo shopping. non voglio più colma a coltivazioni con questi call center mi gira i gironi perdonaci Dante se il tuo bel paese si crede più trendy quando parla l'inglese. Rivolgo al fine settimana non si dice weekend io dormo in albergo ma ci te nell'hotel. Lavori da casa ma quale smart working io rompo i calzini mentre tempo allo shopping i nostri teenager con i post di selfie sono per Dante molto peggio dei guelfi. Rivolgo al volgare del mio bel paese e in quanto volgare vado in cura l'inglese. E c'è di spot le start up i vari step i follow up babysitter in sold out le community e l'account in full time c'ho jet lag uno spoiler nel dossier i default di background mando i link del discount. Superman con i VG sono in stand by ma stand by me un po' di bed e di breakfast in un block mi parto i sun tutti boss e bodyguard bannano banner col backup l'acqua gym e sex appeal a big gym gli sale il feed facciamo un break robo il cheesecake sono i leader del per play ora c'ho un mouse un po' lo costo e una location con lo smoke un escalation di feedback un copyright che pare un rap e ora stop da retta a me che in inglese avevo tre Sì Beatrice arrivo un attimo finisco il webinar sul web marketing per l'e-commerce ma con questo nuovo linguaggio tecnologico ragazzi non si capisce più nulla è diventato un inferno per fortuna c'ho da vendere le nuove copie ho fatto i sequel i cinesi te he wei porca miseria allora vengo subito non so che sia ma sarà buono se penso adatte a me mi girano gironi...